ok brava, circolino piccolo se vedi qui poi vedrai che le anche si spostano e si incrociano durante il circolo non è proprio il massimo per poi iniziare la spalla in dentro la testa un pochino più dritta però in linea di massima va bene e le spalle un po' più verso il centro adesso la vedrai poi qui da dietro dovresti vedere che il posteriore destro va sulla pista dell'anteriore sinistro qui non succede adesso si adesso no adesso si è sempre le spalle un po' troppo vicino alla staccionata grazie a tutti